FUTGLORY.COM 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 c'è da Kurzawa vedi che devi fare un attimo avvertito signori se sa mai difensore centrale abbiamo oh ammazza che culo willems vediamo quanto costa willems quanto costa willems 18.500 euro però vedi ce lo teniamo ho messo paura al ristorante ho detto oh ti è pronto perché stavamo cominciare a ordinare qua vedi quello che devi fa vediamo con quest'altro pacchetto stiamo andando bene stiamo andando bene ci credo vanaken vai 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 mazza di contratti teniamo sempre questa robetta giusto per colpa di poi signori si è doppione perché l'avevo trovato ma non stavo registrando dovrebbe costare in circa intorno ai 10.000 gradi infatti nulla di che quindi che cazzo sto facendo torna indietro quindi lo possiamo mettere tranquillamente sul mercato da sperimenti poi se se lo comprano bene se no sti kaiser comunque signori abbiamo avvertito il nostro ristorante e ci ha fatto di trovare in due pacchetti due in forma andiamo con il terzo dai cioè con il terzo stiamo col settimo non so che cazzo pacchetto stiamo però per favore vai stai stiamo andando benissimo Oblak no pensavo che era Oblak allo ibra ibra centrocampista nainggolan er ninja signori nainggolan questi non credo che c'è qualcuno che potrebbe costare qualcosa ma non penso proprio oh c'è williams buono raga c'è williams siamo a tre in forma lo mettiamo subito così a baffanculonia proprio raga buono come erpane questo ce lo apriamo con i crediti perchè abbiamo terminato i fia points a me sa che mi tocca ricomprare gli ultimi attaccate lavandino levandoschi 88 upgradeato signori vediamo quanto costa la lavandino levandoschi non tantissimo però 56.000 crediti e baffan cuore me lo tengo lavandino levandoschi signori tre in forma e lavandino levandoschi non appena ho accennato al ristorante che mi ha dato qualcosa ci compriamo i fia points perchè siamo rimasti a corto e abbiamo l'ultimo pacchetto vai avanti così subitissimo l'ultimo pacchetto signori abbiamo messo gli ultimi 4 euro di fia points di pensione centrale era meglio che mi risparmiamo per in che non ci facciamo niente in culo assore l'abbiamo trovato pure ok siamo subito sulla play andiamo immediatamente ad aprirci questo nostro fantastico pacchetto signori attenzione vediamo immediatamente martins martins 91 simpatico vediamo quanto costa niente però se lo mettiamo comunque bene sti cazzi tanto perchè mi sta simpatico perchè corre 91 solo per quello ragazzuoli allora la playstation dopo che ho minacciato un attimo il ristorante mi ha fatto trovare tre in forma attaccati e lavandino levandoschi 88 quindi mi aspetto qualcosina ciò di alba mi aspetto qualcosina gentilmente anche dalla playstation non qualcosa è ma questi ci riteniamo perchè non se buttano ne rimangono sette oltre a questi oltre a questi oggi come cazzo parlo oggi non lo so di nuovo rakitic o mai troviamo solo rakitic ce lo riteniamo tanto non costa nulla però ce lo riteniamo giusto per comunque sarà upgradeato è uno spreco buttarlo questi ci riteniamo assolutamente tutti via nel club nuovo pacchetto signori nuovo pacchetto dai 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 che ce lo fai trovare ibra o tevez di nuovo un culo ah no un tevez così a random tevez 87 esterno destro tu madre pedro leon che ci fanno con pedro leon mazza quanti sono si 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 teniamo tutti 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 e scartiamo il toto ok abbiamo preso altri fifa points giusto 2.200 perché se non riesco ad aprire tutti i pacchetti ce lo andiamo subitissimo ad aprire eccolo qua ragazzi me lo sento nell'anno proprio lo sento che era lui jonas 83 jonas ma io lo metto a vendere sullo stesso perchè si è imparato tutto di nuovo che palle oh oh quadrato questo costa sui 20.000 crediti 18.000 16.000 non so 19.000 vedi vedi lo mandiamo immediatamente a vendere il nostro quadrato qui scartiamo tutto ultimi due pacchetti signori ultimi due pacchetti che te lo schifo buonaventura papado papà papadopoulos dai andiamoci a vedere l'ultimo pacchetto signori questo ce lo dobbiamo vedere assolutamente con i crediti ed eccolo qua carrito stevez signori grazie lo so grazie esterno destro quammata non c'è niente raga forme fisica go go che ci riteniamo con la guarigione un pochino giusto per corpandition e scartiamo tutto bene signori questo pacchetto non è più disponibile abbiamo terminato quindi ragazzuoli che direi io spero che comunque questo appuntamento vi è piaciuto abbiamo trovato tre informe attaccati sulla xbox e abbiamo trovato la mandino lewandoschi sempre su xbox sulla playstation non è andato bene assolutamente però ci ho provato ragazzi ero propenso a trovare o ibra o tevez o muller invece ci siamo presa in capente nel braccio nel braccio non capite male comunque spero vi è piaciuto lo stesso questo video mi raccomando vi lasciate un bel progetto su commentare e condividete passate via facebook instagram come sempre tutti i social in descrizione passate anche su food glory qua sempre sotto in descrizione su instagram iscrivetevi al canale se non siete iscritti al prossimo video e se volete un altro bel mega pack opening spoliciate ciao signori